Un cordiale saluto e una buona giornata a tutti voi. Benvenuti alla rassegna stampa di oggi, martedì 14 aprile 2015. Rassegna stampa che si apre come sempre con l'almanacco e il santo del giorno, San Bernardo oggi. Il sole è sorto alle 6.27, tramonterà alle 19.50. La fotografia che vi mostriamo questa mattina delle 7.30, eccola qui, una fotografia che apparentemente può ingannare perché non c'è molta luce, il sole in realtà è presente, ma evidentemente per un attimo il tempo di questo scatto si è nascosto dietro a queste velature, ma comunque insomma per oggi è previsto il sole. 11.08 alle 7.30 di questa mattina. Nuvole, dicevo, sereno o poco nuvoloso per qualche cumulo pomeridiano sulle vette appenniniche e transito di lievi velature con temperature stazionarie o in lieve diminuzione, le temperature però quelle minime, quelle che poi di sera si fanno ancora sentire con il fresco, venti di brezza leggera tesa. Per domani, mercoledì 15 aprile, avremo cielo sereno o poco nuvoloso con temperature in aumento e poi giovedì 16 aprile invece ancora cielo sereno o poco nuvoloso con temperature in ulteriore aumento. Ancora tempo stabile con probabile maggiore nuvolosità nel fine settimana. Vedremo. Allora intanto apriamo la pagina del Corriere Adriatico. Perché? Perché come vedete dalla pagina centrale si parla di incurie e di sporcizia. La città di Fano è una città maltenuta. Con la bella stagione sono più visibili le carenze dell'arredo e i ritardi dell'amministrazione comunale. E in effetti, come dar torto a questo articolo del Corriere Adriatico, anche ieri facevo un giro apposta per vedere a Lido un po' la situazione, e in effetti la situazione non è bella. A parte l'incuria, la sporcizia, ma anche quello che una volta era il salotto buono, appunto tutto quello stabile dove ci sono gli esercizi commerciali sarebbe da ripitturare, da sistemare. Invece arrivando lì c'è proprio una desolazione, non viene voglia per niente di restarci neanche 5 minuti. Da Sassoni a Lido risaltano i segni dell'inverno e delle mareggiate. La zona portuale, pure il centro, è tutto da sistemare. A Lido intanto i teppisti e i maleducati agiscono indisturbati. Più in alto, fanno 5 stelle sui fanghi, disinformato era il sindaco. I grillini replicano all'annuncio di seri sulle sabbie non inquinate. L'ARPAM lo dice dal 2009. Mareggiati i cittadini pagano i danni, ma la regione dà ragione al comitato. I 3 milioni dedicati solamente alle scogliere davanti a Viale Ruggeri. Il comune voleva posare barriere più leggere fino al porto. Oggi alle 18 un incontro con i candidati in un ristorante del posto. È morto Ciavarini, mugnaio e ristoratore. Nei giorni scorsi è venuto improvvisamente a mancare Ercole Ciavarini, lo storico mugnaio dell'omonimo Mulino che si trova nei pressi dell'Arzilla. Nella zona di Carignano aveva 75 anni. È stato colpito da un malore improvviso. Lo scontro è sulla fusione. Nel Mirino c'è la Presidente. Il suo mandato scade tra due mesi, mentre più là, sempre sulla pagina di Fano, lavori iniziati, il corso accessibile solo ai pedoni, intervento pianificato in tre momenti, in tre step, merci ai negozi dalle vie laterali, l'ultimo tratto rinviato invece ad ottobre. Disagi fino a giugno per la prima tranche dei lavori in corso Matteotti a Fano. Il secolo di Chiara, la storia di una vita, compie oggi cento anni Chiara Zandri, madre del professore Alberto Berardi e moglie di Enzo Berardi, l'indimenticato direttore della Musica Arabita, nominato Cavaliere della Repubblica, intestatario di una scuola a Sant'Orso. La vedete in questa fotografia. Oggi saranno in molti a festeggiarla e tra questi non mancherà il sindaco Massimo Seri. Ancora, notte rosa, tagliati fuori, da Rimini a Senigallia soltanto Marotta e Mondolfo. Giunta incapace, la minoranza accusa il sindaco Cavallo di aver perduto una grande opportunità e chiede di rimediare all'esclusione. Sempre dal Corriere Adriatico, la pagina di Senigallia, Ghiaia nel Porto Canale e Melma in mare. De Giuseppe, allargata l'area interdetta le imbarcazioni, la regione approva il dragaggio. Più in alto, sorpreso a guidare ubriaco, un anziano è stato denunciato, rintracciato l'uomo al volante dell'Astra, finita contro due recensioni. È sprovvisto di patente. Da Pesaro, Porto in secca. Un fenomeno misterioso. Ieri il vertice tecnico-operativo, intanto capuzzimato, ridisegna gli ormeggi per gli scafi insabbiati. In calendario una serie di sopralluoghi, in sinergia tra Capitaneria, Provveditorato, Amministrazione e MMS. Nascondeva cocaina e popper, arrestato un diciannovenne, sequestrati 5 grammi di polvere, 130 euro e il flacone che conteneva la sostanza liquida da inalare. Più sotto, di taglio basso, riconoscimento per Luciannibali, sarà cittadina onoraria di Parma. La cerimonia nel pomeriggio in Consiglio Comunale. Le motivazioni. Con il Corriere Adriatico, la pagina di Pesorbino, chiudiamo il giornale. C'è anche Carrabs con Ceriscioli, sarà il capolista di Verdi, Partito Socialista, Scelta Civica e alcune liste di cittadini. Poi da Fossombrone, invece, atto intimidatorio contro l'Associazione Articolo 32. Nella notte è stata forzata la porta d'ingresso alla sede della Cooperativa Sociale. Apriamo la pagina di Fanno adesso del resto del Carlino. Caso Aset, 28 i curriculum inviati, tra quelli effettuata la selezione. Finora si era parlato solo di 10, domani riunione di maggioranza, perché continua a far discutere l'assunzione a tempo determinato in Aset Spa di Daniela Dagata, coordinatrice del Circolo PD di San Lazzaro e membro della Segreteria del Partito Cittadino. Questo è il problema. C'è Riccardo Severi che in qualche modo chiede di capire soprattutto perché in questo momento, insomma, visto che ci sono tra l'altro anche 5 lavoratori della Rincicotti che sono a rischio con il loro futuro, insomma, perché la situazione, la fase economica così complicata, di estrema povertà, eccetera, eccetera. Mi chiedo che necessità avesse la Capodagli, che è la Presidente di Aset Spa, di individuare un portavoce per sei mesi, visto che la sua presidenza è finalizzata alla fusione. Un articolo da leggere con tutti gli interrogativi del caso. Mamma sotto sfratto un mese in più, sfratto rinviato di un mese per Anna, la signora di 51 anni, disoccupata, mamma di due figli, una minorenne di 10 anni e un ragazzo di 20, che avrebbe dovuto lasciare l'appartamento in cui abita il 21 aprile per sfratto esecutivo e dunque ha ottenuto un mese in più, un mese di proroga. Addio a Ciavarini, il mugnaio ristoratore, la locanda tipica di Carignano la inventò lui, perché non facciamo, disse quella volta, un ristorante? Ecco la fotografia di Ciavarini, lo ricorda ovviamente Filippo il figlio, la gente veniva a mangiare da noi, si trovava bene, così nacque l'idea del locale. A volte ritornano il Moonlight Festival, si prepara un'edizione 2016 con i fiocchi, dopo cinque anni di esilio forzato, rinasce l'originale festival di musica. Passeggi tormentati, la municipale litiga sull'apertura dei cancelli e l'assessore ci pensa, dice la protezione civile. Un polmone verde che fa diventare rossi di rabbia i fanesi, che vedono sempre più nero il futuro di quell'area. Mentre, sapori e motori, ecco l'ottava edizione, si potrà fare pure un giro in Ferrari, in programma in Sassonia, dal 15 alla 17 di maggio. Ieri si è aperto il processo a Pesaro per l'orologiaio di Marotta che intascava tutto, è stato denunciato da decine di clienti, praticamente gli portavano gli orologi da accomodare, gli anelli da allargare, i brillanti da ripulire, oppure pietre preziosi da vendere. Insomma, il risultato, questo signore di 56 anni di Marotta, titolare di una orificeria, vendeva tutto e si teneva i guadagni, per quasi 50 mila euro. 29 clienti lo hanno però denunciato per appropriazione in debita, ieri si è aperto il processo davanti al giudice di Pesaro, Elisabetta Morosini. Ancora dal resto del Carlino, da Pesaro, porto nel fango, saranno spostate 80 imbarcazioni, incontro in capitaneria, si verificherà lo scarico del vallato, destinate alla nuova darsena, anche se non completa. La ghiaia del tappo, invece, dove la metto? C'è un altro problema della ghiaia, dei rami che si sono depositati vicino ai piloni del ponte, che fa da tappo, insomma, è un problema che più o meno trafoglia, metauro, cesano. Se non c'è manutenzione, se non c'è pulizia, più o meno i problemi sono lì. Sparò contro chi lo sfrattava, ai domiciliari si rischiava il bis. È una storia tutta da leggere, perché ha dell'incredibile. Non voglio svelarvi più di tanto, praticamente ricorderete, no, di quel settantenne celibe, questo signore Rodolfo Orsini, che il 2 febbraio scorso, quando si presentò l'ufficiale giudiziario a casa, prese il fucile carico e tentò di sparargli, perché non voleva lasciare la casa. Ebbene, andò in carcere, è stato in carcere, lì ha conosciuto una persona che gli ha detto, vai da mia moglie in quell'abitazione là, no? Così poi contribuisce un po' alle spese, eccetera, eccetera. Cosa è successo? Che lui ci è andato, perché gli sono stati dati i domiciliari, il problema è che dopo qualche giorno si è presentato l'ufficiale giudiziario anche lì, perché anche questo qui era sottosfratto, insomma, si è rischiato il bis. Ma è una storia tutta da leggere, raccontata dal Carlino questa mattina. Apriamo adesso invece il messaggero, la politica in primo piano, Forza Italia cambia idea su spacca, siglata l'alleanza con area popolare e Marche 2020, da nemico a suo candidato governatore. Pensate ai miracoli della politica. Per anni si sono attaccati e adesso invece lo candidiamo governatore. Potrà essere credibile la politica? Ditemi voi. Ricci attacca, legge elettorale a persona, ma il PD l'ha votata. Malumori tra i Democrat. Arrestato un 19enne trovato con la droga Vintage, il giovane fermato dai carabinieri con popper e dosi di cocaina. Poi a rischio l'annidificazione delle aquile reali alla gola del furlo, troppi escursionisti, gli ambientalisti della Lupus chiedono maggiori controlli all'interno dell'area protetta. Fano Grosseto è uscita Ovest. Il ministro Nencini, dicono, no, no, qui si va avanti. Sorpresi? Il viceministro confermati, dice, i tempi di realizzazione. Nell'allegato ci sono solo le 25 opere strategiche. Insomma, queste opere sono confermate, perché nei giorni scorsi era uscita la notizia che probabilmente l'affano Grosseto per questione di soldi, di budget, era stata ridotta di parecchio. E quindi, poi ieri l'intervista a Matteo Ricci, del sindaco di Pesaro, che diceva adesso me ne occuperò io, parlerò io con Del Rio. Insomma, oggi viene fuori Nencini e dice, no, no, ma si va avanti. Quindi, insomma, le opere sono confermate con l'ok della Corte dei Conti e la Costituzione della Società di Progetto. Quindi sì all'uscita Ovest di Ancona e l'affano Grosseto, che si farà nei prossimi tempi. Linguaggio politico, per non mettere troppa roba sul fuori. Nei prossimi tempi. Quando? Non si sa. Ma nei prossimi tempi lo faremo. Posa cenere e tascabili. Ne arriveranno 3.000. Al via la campagna di prevenzione e da luglio anche le multe per chi getta cicche a terra. Ricorderete che nei mesi scorsi si è parlato anche di questa ordinanza del sindaco, cioè di questa disposizione del sindaco di Pesaro, che da luglio appunto multerà da 30 a 150 euro i trasgressori che butteranno la cicca delle sigarette per terra. Allora, adesso sono in arrivo questi posaceni ritascabili. Adesso qui la fotografia è purtroppo piccolina, ma non si vede, non si capisce bene, ma comunque poi ci torneremo su questo argomento, anche perché comunque si conoscono, chi fuma sa benissimo di cosa stiamo parlando. Ebbene, ci sono queste disposizioni. L'articolo 14 prevede sanzioni da 30 a 150 euro per i trasgressori. Da qui l'idea del Comune di Pesaro, che in vista dell'estate avvierà una campagna di sensibilizzazione per sollecitare il senso civico dei cittadini, cercando di migliorare la situazione anche da un punto di vista ambientale. La ginnastica è un tesoro, prospettiva mondiale e staff da esportazione. La Federazione Internazionale spinge per la candidatura 2018 e chiede agli organizzatori di occuparsi della tappa estera, della tappa di Taiwan. Provincia, tutti salvi i posti di lavoro. Il direttore generale Domenicucci dice il piano è pronto, niente esuberi nel nostro ente grazie ai prepensionamenti. Preoccupano però i tagli alle risorse, per l'anno prossimo c'è il rischio che manchino i soldi per stipendi e servizi. Siamo in chiusura alla pagina di Fano del messaggero. Centro, partito il cantiere, niente più passeggiata. In corso Matteotti per sostituire le tubature dell'acqua. I lavori proseguiranno fino al 30 di giugno, quando saranno interrotti per la pausa estiva. Ed è tutto, grazie per aver seguito la nostra rassegna stampa. Vi auguro una buona giornata e vi do appuntamento domani mattina alle 7.30 sempre in diretta. Questa sera invece il Tg, occhio alla notizia alle 20.30. Arrivederci. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS